Allora, io vi dimosso geometricamente che la politica non esiste in Rai. Va bene? Questo è Craxi, faccio il centro di Craxi. Lo chiamiamo centro di Craxi, non pensate. Il centro geometrico. Ah, giusto. Se io ti tiro un raggio dal centro sulla circonferenza, lo chiamo R, al punto I, cosa ottengo? Che qualsiasi punto in quest'area di Craxi è raggiungibile dal raggio. È vero, sì o no? Quindi posso dire che l'area in cui c'è Craxi, c'è, è uguale al raggio AI, giusto? A-I.